Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 29 agosto 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Pesci. Tutti concordi, tranne il partner. Tutti concordi, astri, eventi e persone, con la Luna, Urano, Saturno e il vostro astro guida Nettuno a favore, viaggiati nella classica botte di ferro, sospinti nella giusta direzione dall'intuito e dagli ideali sui quali non verreste mai accompromessi. Gettonati perché disponibili, creativi e affettuosi, se date amore, precisano il Sole e Venere all'opposizione, amore riceverete. Di fatto, però, il partner oggi ve ne fa vedere delle belle, forse non ce l'ha con voi, ma col mondo intero, ma come capita a molti sfoga le proprie frustrazioni proprio sulla persona più vicina e più cara. Un rapporto che si basa esclusivamente sulla fisicità senza nessuna base di amore e di affetto. Nella coppia non c'è stima, c'è inganno, c'è rischio di essere ingannati. Attrazione fisica nel rapporto, un partner carismatico, magnetico ma che non ama. Inganni nella coppia, incertezze, trabocchetti di rivali, tradimenti, menzogne e bugie. Inorridite al solo pensiero di perdere la persona amata. E allora perché non vi impegnate di più per tenerla stretta a voi? Il rovescio della medaglia della giornata di oggi è che avrete buone occasioni per risolvere almeno due problemi che vi angustiano da un po'. Per il resto è una giornata governata da Marte. Nervosa e snervante. I tempi belli stanno per tornare, sforzatevi di superare questa fase che vi ha visti coinvolti in spiacevoli episodi con grande vostro imbarazzo. Imparate ad ascoltare l'altro e a non tirare conclusioni affrettate. Al contrario potreste pentirvi di aver preso posizione senza conoscere a fondo il partner. Oggi eviterete con cura ogni polemica e ogni possibile diverbio con colleghi e amici. Ricordate che alcune scelte a cui siete chiamati, se fatte troppo in fretta, potrebbero avere conseguenze gravose. La bussola dell'amore vi sta per condurre in un porto nuovo, non smarrite la via e tenetevi forte. Venere è in buonissimo aspetto e vi regalerà di certo un cuore brillante pronto ad accogliere anche le novità. Benne le coppie nate da poche quelle che hanno subito una crisi momentanea. È probabile che riceverete uno scherzo da amici o da colleghi, quindi cercate di mantenere un atteggiamento tranquillo e ridete insieme a loro. È il modo migliore per scoraggiarli in futuro. Oggi subirete le adulazioni di una persona che non vi piace per niente, non aggreditelo subito ma portando pazienza fate finta di credergli. La luna, signora del vostro segno, transita sempre benefica questa giornata, donando dolcezza, una spiccata sensibilità e l'intuito per far le scelte giuste e saper riconoscere i veri amici. Nel vostro nido il clima è di grande condivisione, riuscirete a mettere ordine ed armonia in alcuni rapporti tra i familiari che si erano un po' fatti tesi negli ultimi tempi. Con Marte tuttavia in angolo sfavorevole dai gemelli, non vi lanciate in sport troppo stressanti e piuttosto prediligete quelli più rilassanti e soft. Se siete stimatori delle discipline orientali, provate lo yoga. Con il partner e i figli vi sentite tutt'uno e anche se fuori, dominati dal vostro inquilino Saturno, volete apparire rigorosi, in realtà avete un cuore di budino e un'anima di ricotta. Infatti non solo il partner, pragmatico e razionale, riesce a farvi ballare sul filo, anche i vostri ragazzi fin da bimbetti hanno capito come prendervi per ottenere da voi qualsiasi cosa. Amore ed Eros. Teneri e fantasiosi vi fate mettere nel sacco da tutti, su sveglia, il tempo delle favole è finito e anche quello delle mele, il grillo parlante vi invita a diventare un po' più concreti e a studiare i meccanismi della psiche e dello spirito attraverso gli scritti dei grandi filosofi del passato. Comprensibile sensazione di solitudine anche in mezzo a persone che vi amano e vi abbracciano di continuo, la difficoltà sta nel condividere gli strani pensieri, i turbamenti emotivi e i timori infondati che corrono nella vostra anima come puledri impazziti. La luna è molto bella nel cancro e venere sta abbandonando la posizione negativa per voi dalla Vergine. Si espande in voi la parte emozionale, se siete in coppia il romanticismo salirà alle stelle. Per i single urano favorisce gli incontri con un potenziale di coinvolgimento erotico molto spiccato. Lavoro e denaro. Per non entrare in urto con un socio, evitate un meeting in calendario proprio oggi, lo stesso vale per una collaborazione stretta, meglio agire da soli e lasciare un po' di spazio tra voi e gli altri. Grandi intuizioni e un'eccezionale creatività fanno di voi un elemento irrinunciabile. Marte dissonante specie se appartenete alla terza decade vi rende nervosi quando svolgete la vostra attività. Per i liberi professionisti, cautela nelle manovre economiche e nei rapporti con l'estero. Sempre Marte negativo vi provoca in una competizione particolarmente stimolante che si è creata in ufficio tra colleghi. Darete prova di grande competenza e professionalità e riuscirete a prevalere. Benessere. Se la pancia è sottosopra, la colpa è tutta delle emozioni, non riuscite a metabolizzarle, perciò vi rosicchiano dentro, come topolini dispettosi. Piano con i medicinali, che vi danno sollievo oggi ma che possono creare effetti collaterali domani, il miglior rimedio lo trovate dall'ortolano. Denaro. I due formidabili corpi celesti congiunti nel vostro segno, Saturno e Nettuno, vi aiutano nel farvi giungere nuove, inaspettate risorse economiche. Adesso dovete, però capire queste stesse risorse e come farle fruttare a dovere. Per lei, il radar vi indica la giusta direzione, puntate la prua verso l'obiettivo, una casa confortevole e un giardino verdeggiante dove un nuovo amore, un frugoletto e un quattro zampe vi aspettano. Per lui, famiglia contro carriera, con voi nel mezzo, incerti sul da farsi. Non volete deludere chi vi ama e nemmeno chi vi stima, perciò decidete di scontentare solo la vostra anima. Sarà giusto? Colore delle emozioni, rosa corallo. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.